Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuTheGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi Fortnite perché dobbiamo provare assieme i nuovi spararagnatele che hanno aggiunto. Vi faccio vedere anche velocemente tutte le posizioni in cui è possibile trovarli, vi ricordo però prima di lasciare un like e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Siamo qui nella schermata di Fortnite, ah tra l'altro prima vi ricordo sempre di inserire solo e solamente ragazzi all'interno della dem shop il codice di Arturi Fortu. Così come vedete il schermo, accettate. E così ragazzi ogni volta che farete l'acquisto mi arriverà una piccola percentuale, grazie mille. E poi se lo mettete diventate pure più fighi, parola di FortuTheGamer. Allora ragazzoli, quindi per trovare le nostre carissime ragnatele dovremo andare nella zona del Daily Bugle, proprio qui, infatti ci sono tipo le ragnatele attaccate con le ragnatele agli zainetti, cioè vi faccio vedere, ecco, prima cosa prendiamo un'arma. In pratica le nostre, no stai calmo, i nostri spararegnatele sono attaccati proprio così, con delle ragnatele e degli zainetti. Noi li andiamo a prendere, ci danno anche delle cure. Di solito io ho trovato un medikit, stavolta mi ha dato delle pozze piccole, beh ovviamente sono pure casuali. E niente, tra l'altro strano che non ci sia quasi nessuno, il Daily Bugle, cosa sta accadendo alla mia visuale? Anche qui ce n'è per esempio un altro, vedete? Sono tutti carini così, te escono. Buono questo fucile a pompa, cioè buono, simpatico, buono, un parolone. C'è qualcun altro che ha trovato le ragnatele, si sta muovendo tutto carino. Ma c'è sta proprio in testa, simpatica come cosa, no? Un altro anche qui. Ah, tu sei un pazzo! Ma che, cioè questo tizio mi è entrato così di prepotenza, ma sei impazzito, fra? Un assassino sto Cristiano. Comunque raga, cavolate a parte il sistema di swing delle ragnatele, è fatto molto molto bene. Qualcuno se ne potrebbe lamentare, ma personalmente credo che sia veramente greggio. E vi spiego anche perché, eh. Allora, partiamo dal presupposto che ragazzi non stiamo giocando a Spider-Man, Miles Morales, Spider-Man per PS5, stiamo giocando a Fortnite, ok? Che quindi non è un gioco fatto, ovviamente, per avere di base una meccanica come questa. Bella per il bot. Il fatto che sia già adattata così bene, e che non baghi il gioco, già è tantissima roba. Veramente è da apprezzare. So che mi pare che sia stata fatta una patch, perché qualche problema l'ha avuto. Ma il fatto che ora funzioni e sia tutto ok, già è tanta roba. Tra l'altro c'ho un attimo i giovanelli qui che mi stanno dando fastidio. Attenzione, c'è un tizio sulla sinistra? Sì. Ok, a posto. La potevi fa... Oh, ma quei... I topi mi stanno a seguire, ma siete pazzi? Mamma mia. Comunque, vi dicevo. Tra l'altro, poi, è anche un sistema comunque che, secondo me, funziona molto bene, perché è soddisfacente. E poi si adatta a diverse situazioni. Per esempio, vi faccio vedere, no? Guardate, per esempio, qui. Io se mi tiro, in pratica slitto sul pavimento per un piccolo tratto. Cioè, non è che se bagga e tipo ti vuole far swingare. No, ti fa proprio scivolare a terra. Vedete che figata? È molto, molto carino come sistema. Poi, se lo sai gestire bene, non ti blocchi neanche negli oggetti, negli alberi. Secondo me, è approvato totalmente. Inoltre, parede lo stile di gioco molto più dinamico. C'è gente che sta a spara di fronte. Inoltre, non c'ho tantissimi materiali, quindi cerchiamo di farne un attimo un uso intelligente. Sì, sì, sono proprio a spara di brutto. Eh, sta quello oltre il lago. Ci provo. Bua, dai. Ok, a posto, è andata. Si gode. Sinceramente ho paura a buttarmi in acqua, perché potrei tranquillamente fare la stessa fine che ho fatto fare a sto dizio. Proprio la stessa, cioè. Tra l'altro il fatto che non ti fai danno, per esempio, questa è una gran cosa. Perché se avessero messo il danno, ogni volta che si cadeva male, sarebbe stato veramente un casino. Sarebbe stato un oggetto quasi inutilizzabile. Voi ho detto, ragazzi, secondo me hanno creato poi una cosa figa. Cioè, assolutamente approvata come meccanica. Tra l'altro già ho visto, ragazzi, che in endgame poi a un certo punto non si capisce niente, perché la gente comincia a swingare. Diventa veramente Spider-Man to the Multiverse. Proprio easy. Guardate come se lo slitta tutto. Mamma mia, che bello. Io farei un video solo di io che swingo su Fortnite. Come la gente fa i video su TikTok di... Un tizio. Non mi ha ancora sentito. Proviamo a far così. Provo, eh. Non so se mi conviene come cosa. Uh, ho colpito. Mi sa che mi è convenuto. Mamma mia, quanto godo. Ti prego, fammi entrare dentro. Mamma mia, fra. Scusami. Ok, non era forte, però, eh. Che si è fatto veramente, clappate brutto. Attenzione, cosa ho lasciato? Ho lasciato qualcosa? Le pozze piccole, sì. Ok. A posto siamo vivi. Incredible. Salve, buonasera, ragazzi. Arriva il vostro Forte Gamer di quartiere. Voi via... Uh, attenzione a qualcun altro con le regnatele. Non è una bella notizia il fatto che io non sappia dove cavolo mi stia addosso questo tizio. Dai, ti prego, colpiscilo. Ok, questo non era forte e basta. E io sono molto stupido e non so mirare. Grazie per la corona. Gentilissimo. Io devo ancora capire queste coroni a cosa servono. Devo essere molto sincero, ragazzi. Vedo un cinghiale che sta in segui qualcuno. Però ha cambiato idea. Sono confuso. Ok, sta lì un tizio. Bello questo. Uh! Ma sono troppo fuori. Vai, Spider-Man di quartiere! No! Se ci fossi riuscito sarebbe stato fighissimo. Però va bene. 7, 7, 7. Mamma mia, la gang, signori. La gang, proprio lei. Ok, mi posso aggrappare. Non so se ha le strutture. Credo di sì. Credo che io mi possa proprio aggrappare alle strutture. Ok, sta salendo. Il problema è che questo tipo può scappare se lo sparo. Quindi avviciniamoci in attimo. Mettiamolo in condizione che lui non possa andarsene. Dai, se me vede, se me vede. Non mi ha visto ancora. Ok. Ok, dobbiamo coglierlo di sorpresa, regà. Ok, mamma mia. Mi ha fatto una laggata incredibile. Mmm, mi hanno sparato. Devo stare attento. Prova a farmi cadere. No. È scappato quello. Dai. Perché ho visto uno con le ragnatele che probabilmente era lui, ma strano. Sì, sì, no. È scappato, è scappato. Uno con le ragnatele. Ok. 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 Mi sono fatto raggiungere. È diverso. Oh, stacce, fra. No. Mamma mia, che panico. Questo mosello collega palese. Devevo farlo cadere, dai. Cadi. No, fra, mi sa che è andata male. Mi fa un piacere. Come è sopravvissuto? Secondo qual è la regola malata questo tizio di sopravvissuto? Com'è affatto? Ah, è uno contro uno. E vabbè. No, però io ho capito che sta sto tipo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. È di one day in safe. Dai che tanto non mi prende mai con la spider web. Non lo può fare fisicamente. Se ci riesce, cioè, si merita la vittoria. Quindi scialla. Ok, tanto sta qua. Sta sotto, sta sotto, ragazzi. È a posto. Devo uscire per forza. Ma sta qua sotto. Palese. Ma no, ma dai. Ma che cringe. No, fra, credimi. Non mi superi perché stanno le mie strutture qua sotto. Quindi mi sa che è andata un po' male. Dai. Adesso. È stato un piacere, fra. No, no, no. For tu mamma mia, se fac da pavo qui mi veramente spaccavo tutto. Vabbè, GG, ragazzi. Allora, vittoria con la spider web fatta. Provata. Ed è stata veramente molto, molto figa. GG. Vabbè, ragazzi. Insomma, che dirvi. Sono una bella partitina. Bella cigli. Mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Buonasera. Buonasera.